casa generale praticamente al completo torniamo seri giambo torniamo seri perché lo so che c'è euforia l'inter prende sempre di più in largo mamma mia un abisso generale aveva detto quest'anno vince la juve forse adesso si può ricredere forse si potrebbe ricredere si deve però non bisogna mai fermarsi che si ferma e perduto e c'è il genoa che all'andata abbiamo steccato perché finita sarebbe una delle poche partite che in cui lino è forte giustissima osservazione sentiamo quelli che sono gli anni di pareri i pronostici e cominciamo dal nostro giallo che devo dire noi abbiamo sempre detto va a te curi generale che numero uno no quest'anno io me mantengo vorrei sbilanciare come lui però io me mantengo quest'anno bisogno usare vai giambo visto che non getto un ram dico soltando 2 a 0 ah dico soltando perché non getto un ram se no dovrei dire 3 4 a 0 però cosa è stare come ti presenti ancora qua facciamo te lo confermi mi piace il presidente perché subito te lo confermi io 3 4 a 0 a 3 4 5 4 1 3 ma quello che ho detto io prima che vorrei dire ma non ho capito un risultato per nareo 4 quando è uno no io dico 3 a 0 aspetta un attimo a bellissimo sentiamo milito 3 a 1 a però a Io il gol non lo voglio prendere No, non lo guidiamo Bravo Di misura 1-0 Ma sentiamo Lui, il generale, il vater La vinciamo il generale 2-0 Ah, va bene 2-0 va per la maggiora Sarebbe bello Un'altra partita senza superi gol Un'altra partita a punti Sarebbe un numero sul numero Un Inter Che figlio mio Sta navigando benissimo Forza Inter Forza Inter Stai usando Forza Inter Europa Un Inter d'Europa Scoppiettano Sì Che stiamo facendo? Si mette la mano Vai per la mamma In sinistra di mamma Stai mangiando Stai stupendo Stai stupendo Non è la cosa che ci fa il gioco Guarda Barilla qua Che no, sbagliate Quello, Nicolet Bella Palla cari a me Loco maestro Loco Palla cari a te da vita Ha messo una palla Proprio da D'abbio Guarda Ma lo capo che dà Sarebbe 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 Dopo C'è Sarebbe Dopo In soluzione Sarebbe Sarebbe Parla da Ragazzi, guarda che ero lo toro, voglio, pure che ero lo toro, eh, lì. Che paleta! Ma ha fatto proprio video un po'. Hai visto? Non dire un golo, come avrà. Così non si fa. Ci sono tanti che tocco, ci sono i video che ha fatto tutto. Gravamia! Sì, sì. Beh, che vuoi dire? Manneggiava una serie che sa mangiare. Ha fatto pure una cosa. Sì, la crisi è stata cacciato, cacciati di cuore per l'interno. Ah. Sì, la crisi è stata cacciata di cuore per l'interno. No, avete già tarato con lui. No, mamma mia, parà a farciatronetto. Avete tarato, avete tarato, avete tarato, avete tarato. No, perché questo non è lì. Eh? Questa è lì per l'interno. Non lo vuole pure, avete già tarato. Ma non è il ruolo qui. Ma speriamo che non lo vuole, proprio non mi sembra. Ma speriamo che non lo vuole. Perché non è il ruolo? Ah, ah, cioè. No, non è il ruolo perché non è il ruolo. Ma hai tarato? No, se non lo tengo, non loaucer. Di certo? Ma se vuoi abitarsi non lo taccio. No, no, vi chiamo. No, no, non lo chiamo. Non lo chiamo per per il marco, per sbagliare, perché avete già tarato un ruolo. Ma capite come funziona? Stai, c'hai già tarato un ruolo? Ave già tarato. non ci sia una cosa io non ci sto trattando io non ho tirato prima che tiravo o sta colando qui non si spazzano io non ho tirato qui non ho tirato io non ho tirato io non ho tirato io non ho tirato qui non ho tirato ma è tirato già i concetti ma io non l'avevo mai dato è che sto riso ma perché Martino è il suo e vai tranquillo ma ancora si è gettato della partita la lotta league la lotta league la situazione che ha messo il giocatore ha detto male c'era il giardomio qui tre volte doveva aiutare il capo di una cosa qui eravamo fatta una cosa troppo troppo e ha fatto una saluta con l'alvolo ecco voi parliamo l'altro e l'ha poi visto aia 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 maneggia maneggia che c***o non so che è fuori gioco ma non è la c***a non so che è che non mi batte ovviamente p***e ha piegato le maglie a sommer che è andato giù sulla destra toccando il pallone per favore non siamo ancora più posizionati acermi detrai e erano segnali il miso è marloco è solo acide dobbiamo tenere fatto il giocchetto che aveva fatto un dramma qua ma che sofferenza stasera ci prendono mica ci prendono non ci prende più nessuno mamma mia comunque è stata dura è stata dura bisogna dire secondo me questa è stata la partita più più sofferta che abbiamo ciao